Non è mai il momento adatto per tenere fermo un paese e litigare sui poltroni, questo è il meno adatto per i poltroni, è veramente imbarazzante, oltre che il mio fonte la sua maggioranza stanno prendendo, spero che finisca il prima possibile, se non hanno più voglia, tempo e modo di governare, noi siamo pronti, io il governo del Partito Democratico, io devo governare con quelli che mi hanno spuntato i decreti di diretta e vogliono cancellare cosa c'è, io con quelli che pensano alla droga libera, onestamente ho poco, abbiamo già dato, c'è Conte attaccato al telefono, mi risulta che ci sia Conte attaccato al telefono che promette Mario Monti, diciamo che un Presidente del Consiglio con una campagna vaccinale partita con difficoltà e con una situazione economica preoccupante a Palermo come a Milano che passi il suo tempo, non a risolvere i problemi degli ospedali, ma a cercare parlamentari per salvare la sua proposta, ricordo tra parentesi, l'ultima delle preoccupazioni degli italiani, però io sto aspettando dal 10 dicembre un incontro per parlare di Italia e di futuro, mi scrisse riguardo l'agenda e mi chiamo o ha perso l'agenda o ha perso il credito.